Un saluto come state? Ben ritrovati, buon proseguimento di giornata, vi ricordo di iscrivervi, dai che arriviamo presto a 10.000 iscritti e lasciate un bel like, oltre che commentate se vi va così interagiamo e capiamo ognuno il punto di vista dell'altro, ovviamente sempre con civiltà e rispetto, mi raccomando, la maleducazione qui non è ammessa, ovviamente, come dovrebbe essere ovunque. Parliamo di Chessy, allora su Chessy abbiamo registrato la scorsa settimana l'attacco del manager a Tangana nei confronti del Milan, che ha fatto capire che il Milan non spendono mai per i rinnovi, vedete, fanno fatica anche con altri, anche se adesso pare abbiano più soldi, noi volevamo restare ma, ebbene, il ritorno al Milan lo escludiamo ovviamente categoricamente, però attenzione perché con il passare delle ore salgono le possibilità di un suo ritorno in Italia. C'è stato sicuramente un contatto tra il suo entourage e Ausilio, che è un grande stimatore di Chessy da tempi non sospetti e già aveva provato a portarlo in Italia negli scorsi anni, o meglio all'Inter, era già in Italia negli scorsi anni. C'è in tutto questo anche però un approccio delle ultime ore del Napoli, con Giuntoli che fiuta l'affare più per l'estate che per gennaio e prova a portarsi a casa appunto che sì, magari con la formula del prestito. Questo è quello che provano sia l'uno che l'altro, sia Ausilio che Giuntoli. Sullo sfondo c'è anche qualche sirena inglese, che sicuramente in questo caso farebbe più felice il Barcellona, visto che hanno il potere economico per comprare e che si pagano l'ingaggio. Però attenzione perché Chessy in questo momento sta strizzando l'occhio all'Italia, in particolare appunto a Inter e Napoli, che sono fatte avanti per lui. Sicuramente ecco sarebbe un ritorno clamoroso, che credo non farebbe piacere a questa grande maggioranza di tifosi rossoneri, che sì insomma in Italia non l'ultima stagione, quella prima era stato forse il miglior giocatore della Serie A o comunque uno dei migliori. L'ultimo anno era il Milan discretamente, quest'anno il Barcellona come sapete sta giocando poco o nulla e neanche bene. Ditemi che cosa ne pensate, ieri c'è stata una riunione tra Tangana e la dirigenza Blaugrana per pianificare un po' permanenza fino a giugno o addio già a gennaio in Italia, sarebbe qualcosa di clamoroso. Un saluto, commentate, ditemi che cosa ne pensate, qualsiasi squadra voi tifiate e iscrivetevi sul logo AL. Un abbraccio.